Comincio col deprecare che ieri ne abbia parlato Bertinotti su Il Riformista. Non solo, ma depreco il fatto che non ho capito che cosa lui ha detto. Perché ha detto, c'è Sanremo, c'è la politica a Sanremo, la gente farebbe bene a leggere il libro di Prete Rossi. Ho capito. Per fortuna non è così. Cioè, il libro di Prete Rossi la gente dovrebbe leggerlo, se è capace, ma prescindendo da Sanremo. È un bel traino Sanremo. Insomma, oggi no. Va bene, detto questo, come è stato giustamente detto, Dunque, questo è un libro serio, importante e pertanto raro. Cioè, è un libro e non un libroide. Bene. Il titolo. Cominciamo col dire che diritto vuol dire ordinamento. Ecco, così ci intendiamo. Ordine. L'ordine moderno. E teologia politica vuol dire che l'ordine moderno non si autogiustifica. E questo è un bel problema. Perché tutta la modernità, meglio, le principali linee di riflessione della modernità su se stessa sono centrate sull'idea di autogiustificazione. In violentissima polemica contro l'autorità, contro il concetto di autorità, cioè contro il concetto di un fondamento legittimante che non deve giustificarsi. Che era poi sostanzialmente Dio. Quando Dio diventa da nome della pace, diventa nome della guerra, cioè guerra civile di religione in Europa, i grandi filosofi, non il mainstream che continua in perterrito a dire le solite cose, i grandi filosofi cercano, fanno uno scarto, un tentativo di cambiare paradigma e di pensare alla politica senza fondamento. Quello che ci pare essere una politica senza fondamento. E' una politica senza fondamento. E' una politica che si autofonda. La forma fondamentale dell'autofondazione è il contratto. Il cosiddetto contratto sociale, no? E' il barone di Munchausen che si tiene su prendendosi per il codino. Dal contratto, che è la forma di autogiustificazione del razionalismo politico, si può passare a una forma di autogiustificazione più sofisticata, che è il lavoro. E anche il lavoro è un'autofondazione perché a lavorare siamo noi, non è il fondamento. La costruzione della socialità attraverso il lavoro vuol dire che ciò che è il nostro ambiente l'abbiamo costruito noi. Poi, e questo potrebbe essere il pensiero dialettico, non parliamo del pensiero negativo che dell'assenza di fondamento si fa il programma. Se il lavoro è fondamento per il pensiero dialettico, cioè è un fondamento tutto immanente che contiene la contraddizione perché lavorare stanca, lavorare fa fatica, lavorare vuol dire interagire con l'oggetto, Hegel, diventare soggetti soltanto interagendo molto duramente con l'oggetto, oppure Marx vuol dire perdersi come soggetti diventando oggetto, la reificazione. cioè il lavoro è fondamento autofondato attraverso il negativo, per il pensiero negativo invece, da lì c'è in poi, il fondamento non c'è, c'è uno scollamento di principio fra ogni forma di logos e ogni forma di prassi, viviamo, non è la contraddizione dentro di noi, ma siamo noi dentro la contraddizione, per cui ti saluto, non c'è alcuna fondazione. Comunque la si giri, il tema della fondazione sembra lasciato a forme magari potenti, ma residuali, cioè a irrazionalismi sostanzialistici, o a certe forme di cattolicesimo reazionario, o a forme di reazionarismo non cattolico, quelli che adoperano la natura come fondazione. La natura può essere tanto la nazione, e fin qui possiamo ancora cavarcene, quanto la razza, e qui è perduta per sempre, è una triste storia, è perduta per sempre, ma insomma, il vanto della modernità è noi ci costruiamo il nostro ambiente, se proprio dobbiamo dire grazie a che cosa? Diciamo, grazie alla ragione, oppure grazie al lavoro, del resto lo dice la nostra Costituzione, e se proprio proprio abbiamo smanie di trascendenza, diciamo, va bene, ci costruiamo il nostro ambiente seguendo certi valori. Qui, grazie a Dio, non ci sono i valori, se no avrei rotto l'amicizia conflitto e rossi. Qui, la tesi è un'altra. Perché i valori? Perché i valori sono completamente immanenti, e sono semplicemente il carburante della nostra prassi e della nostra conflittualità. I valori servono a fare la guerra, non servono ad altro. Che cos'è teologia politica? che è una teoria del fondamento? No. È una teoria di interpretazione, è un insieme di teorie, di interpretazioni alternative della modernità. Se non c'è la modernità, non si capisce niente. Interpretazioni alternative della modernità. Alternative a che cosa? Alla tesi fondamentale che vi ho appena esposto. cioè che la modernità è l'epoca in cui qualunque sia la linea di pensiero dentro la quale ti collochi, sicuramente devi pensare che è un'epoca in cui non vige il concetto, il concetto di fondamento, in cui l'inizio è un abisso, ma non te ne fai un problema. Ecco, è un abisso senza che questo sia un problema. E invece è invece un'origine, diciamo meglio, un'origine c'è ed è un problema. Questa origine è nominata col nome di teologia politica in omaggio a Carl Schmitt sostanzialmente. ma quella di Carl Schmitt è una è una modalità di riflessione sulla origine. Alla parte su Schmitt segue nel libro una lunga parte su Hegel che è sostanzialmente il contrario di Schmitt. e tuttavia anche lui funziona come pensatore dell'origine che non commette l'ingenuità di pensare che l'origine non sia un problema. E da Hegel si può transitare abbastanza facilmente su Gramsci. Chi manca? Manca Marx. Perché? Perché Marx da questo punto di vista dell'origine ne faceva volentieri a meno. Quando si parla di origine ecco che questa origine tu la collochi sotto o che tu la collochi sopra stai parlando di qualche cosa che viene che non coincide né con il contratto né con la storia come sviluppo lineare cioè come col progresso né con la nozione marxiana di struttura che è un discorso completamente se lo prendiamo proprio alla lettera e non voglio qui stare a dire se facciamo bene o male a prendere la lettera tutta la seconda internazionale l'ha preso la lettera dire struttura vuol dire le cose come sono o meglio i rapporti di produzione come si sviluppano tutto il resto non conta niente non è essenziale no origine vuol dire che tu la collochi in un abisso o che tu la collochi in una dimensione eccedente in una eccessione o in una eccedenza vuol dire che il livello della piattezza orizzontale è tu lo consideri determinato da quell'origine che quel livello di piattezza orizzontale che dunque non è più piatto che lo sappia o no che lo capisca o no che lo porti con sé o no questa consapevolezza ed ecco che abbiamo Schmidt in cui quel livello è un livello abissale lui inventa non inventa la parola teologia politica però gli dà l'allure che ha preso fino da un secolo a oggi ma di teologico non c'è niente cioè di sostanza non ce n'è nemmeno un po' la tesi è che la modernità si svolge tutta quanta ed è una tesi ovviamente antiprotestante contro la secolarizzazione produttiva del protestantesimo la tesi è che la modernità si svolge tutta non con l'oblio o con la traduzione mondana della religione no la modernità si svolge tutta all'interno della religione occhio all'interno degli schemi meramente formali del pensiero teologico agli schemi formali cioè come la teologia ha pensato l'universo cioè un ordine che ha un centro un ordine razionale che ha un centro che lo informa così la modernità non può fare a meno di pensare a se stessa e soprattutto la propria politica cioè lo Stato ma con la differenza fondamentale che mentre il pensiero della tradizione religiosa che Schmidt peraltro rispetta tantissimo essendo lui cattolico e pure reazionario mentre il pensiero della tradizione religiosa era un pensiero in cui quel centro era una sostanza e che sostanza era Dio cioè quello che teneva tutto sosteneva tutto nella modernità proprio perché Dio non può più essere adoperato perché il Dio moderno è il Dio della guerra nella modernità di quel modello di pensiero resta soltanto la forma senza sostanza e così la modernità ha al proprio centro una voragine ecco per cui nichilismo allo Stato puro certo che vuol dire occhio vuol dire che la modernità è infondata sì certo ma questa infondatezza è una infondatezza pacificata dentro la quale ci troviamo bene è è un'infondatezza dentro la quale ci mettiamo lì come individui empirici a far contratti e contratti a fondare lo Stato e no con questo deficit originario tutto quello che costruiamo nella modernità è un'immanenza che crede di riuscire a tappare la voragine a neutralizzare il buco e non ci riuscirà mai ecco e dunque a suo tempo io definì tutto ciò la potenza dell'assenza della trascendenza questa è la tergia politica di Schmitt che è una macchina lanciata contro il liberalismo contro il protestantesimo contro la tecnocrazia contro tutto contro il socialismo figuriamoci cioè contro tutte le le occhette giulive che se ne vanno nel mondo credendo nei diritti nel progresso e credendo che sia possibile la pace la democrazia e l'uguaglianza e Schmitt che era un vecchio reazionario godeva immensamente nel dimostrare che nulla di quello che la democrazia può promettere può essere mantenuto che dentro la forma della politica c'è un'assenza di sostanza che deforma quella forma quella assenza di sostanza che deforma la forma è il politico cioè il fatto che dentro la politica c'è il conflitto originario ma quel conflitto originario è un altro nome dell'abisso originario della modernità per cui occhio con Schmitt uguale a Thomas Hobbes occhio perché Thomas Hobbes poveraccio ci credeva nella ragione umana Schmitt no ecco però non credeva neanche in Dio Schmitt figuriamoci e non credeva neanche nei valori non credeva in niente era solo intelligente ed è una teologia politica che giustamente Peter Rossi adopera come uno dei modelli l'altro essendo quello di Hegel che funziona all'opposto cioè in Hegel la critica al liberalismo avviene non in nome dell'eccezione cioè di quel vuoto originario ma avviene in nome dell'eccedenza dell'idea cioè tutto quello che noi facciamo lo facciamo perché siamo mossi dalla necessità ecco siamo mossi della necessità di rendere effettuale l'idea cosa che non riusciremo mai a fare però questa impossibilità originaria non produce effetti nichilistici perché in Hegel la sostanza c'è non è la sostanza tradizionale tradizionale cioè l'oggetto anzi è il soggetto il grande manifesto di Hegel è la fenomenologia dello spirito e lì c'è scritto che bisogna pensare alla sostanza anche come soggetto il che vuol dire bene la modernità ha liberato la soggettività benissimo la soggettività che cos'è è la soggettività empirica sì e no la soggettività empirica è quella che è stata liberata ma funziona agisce lavora è efficace produce senso soltanto se è capace di caricarsi del peso che un tempo era il peso della sostanza e chi è capace di fare questo? allora non i cattolici perché? perché i cattolici tengono separata la sostanza che chiamano oggetto cioè Dio dal soggetto e vedono nel soggetto una creatura inferiore che si deve inchinare alla volontà dell'oggetto cioè non c'è conciliazione c'è gerarchia non i giacobini che sono uguali ai cattolici semplicemente a ruoli politici invertiti nei giacobini c'è una soggettività devastante che vuole fare piazza pulita di tutto quello che essa non capisce ed è il terrore non c'è conciliazione c'è nichilismo non capiscono niente adoperano una ragione astratta una ragione che non vuole essere fondamento mediato ma vuole essere immediatezza e in nome dell'immediatezza tagliano le teste come teste di cavolo allora chi è capace di fare l'operazione della mediazione fra soggetto e oggetto ovvero di essere sostanza soggetto chi? i protestanti dove? in un'altra terra dello spirito autocosciente cioè nella Germania che cosa vuol dire che è matto questo? no vuol dire che in un posto dove c'è lo Stato moderno sì però che non è nato da una rivoluzione che non è nato da un contratto in cui non c'è il conflitto Stato-Chiesa in cui l'ethos pubblico si è formato storicamente come abitudine alla libera obbedienza cioè l'obbedienza ragionata o se le sta sognando tutte ma lasciamo stare all'obbedienza ragionata e in cui se proprio proprio ci deve essere un conflitto fra Stato-Chiesa vince lo Stato con rammarico con dispiacere ma vince lo Stato e c'è una sostanza che è ethos è una sostanza che è un sistema di comportamenti un sistema di comportamenti che coesiste coesiste con comportamenti più liberi che sono i comportamenti moderni cioè con la società Hegel è il primo che capisce che è successa una cosa enorme cioè è successo che la società civile e politica è andata a pezzi che la società e la politica si sono separate per sempre la politica è diventata lo Stato e la società è diventata il sistema dei bisogni cioè dove gli individui empirici cercano il proprio utile ecco e questo è tutto quello che vedono i liberali cioè degli individui che si danno da fare per l'utile non sanno da dove nasce non sanno dove va ecco un'eccedenza rispetto a questo per far sì che la nostra vita non sia la vita irrelata la vita deforme la vita informe del mercato l'eccedenza dov'è beh l'eccedenza è nell'ethos perché questo modo di vita è pur sempre un modo di vita che nasce fra esseri umani che hanno una storia che non stanno insieme perché c'è un contratto che hanno una storia che hanno una profondità e che non hanno non trovano la forza di stare insieme a livello della società la società è incistata dentro lo Stato e lo Stato questo Stato è diverso allora dallo Stato della tradizione dallo Stato di Carl Ludwig von Haller certo è uno Stato che contiene uomini liberi che sono liberi a vari livelli a livello della società civile e che grazie allo Stato sono ancora più liberi perché lì imparano grazie allo Stato imparano la la sussistenza piena dell'ethos lo Stato non è uno Stato etico nel senso che insegna qualche cosa a qualcuno c'è Stato perché c'è un ethos cioè perché nasce dalla profondità della storia è una pienezza che diventa esplicita grazie alle soggettività umane e grazie al fatto che lì c'è una soggettività nello Stato alla fine c'è una soggettività nella soggettività che è la filistrica che valta il potere del principe per cui spirito oggettivo è sempre spirito non è pura oggettività è spirito oggettivo la sostanza è divenuta soggetto certo è tutto pieno di contraddizioni questi livelli non si appartengono senza difficoltà ad esempio lo Stato fa la guerra i liberali non vogliono che lo Stato faccia la guerra perché vivono lo Stato come un sistema di assicurazione dei loro affari e dei loro diritti invece lo Stato lo fa e così questi imparano che c'è qualche cosa che eccede la soggettività empirica allora qui abbiamo una teologia una teologia politica cioè una teoria dell'eccedenza che spiega l'immanenza poi abbiamo Gramsci che è un bel acquisto perché qui Gramsci è diventato diciamo così in questo libro c'è Schmitt diventato un pezzo grosso della filosofia che va bene va bene perché io stesso l'ho letto così insomma è così lui poteva anche dire di no ma insomma è così Egil che è un pezzo grosso della filosofia e per fortuna non ci piove su questo Gramsci che è elevato a questi livelli anche cosa c'è di teologico politico in Gramsci tenuto conto che Gramsci è un dialettico per cui capiva Egil poteva essere prigioniero di una retorica anti-egheliana ma mica tanto mica tanto certamente era al di fuori delle sciocchezze della seconda internazionale c'è un passaggio di Gramsci che Preterossi valorizza in cui Gramsci mette insieme il livello speculativo la filosofia insomma dialettica e la religione e da quel passaggio Preterossi trae la conclusione che Gramsci esce dalla dicotomia poco esplicativa struttura sovrastruttura e che Gramsci elabora il proprio pensiero in modo tale da riuscire a tenere insieme diciamo così il proprio pensiero in modo da dare valore strutturale anche la sovrastruttura cioè da non cadere nella trappola della pura immanenza che poi vuol dire per un marxista vuol dire economicismo mentre la trappola della pura immanenza per un liberale vuol dire economicismo più tecnocrazia insomma che stessa roba ma anche per un marxista quando c'erano quando avevano il potere anche loro spiegavano tutto economia scienza tecnica facciamo tutto noi ecco Gramsci invece è portatore di una capacità di pensare alla politica come a una dimensione rilevata e non come una dimensione piatta questo lo si trova nel concetto di nazional popolare che vuol dire vuol dire che quando si fa politica entrano in gioco categorie scivolose nazione popolo spessori storici prospettive non per adoperare una metafora orribile e infelice che è stata adoperata dal segretario di un partito giustamente pumito dagli elettori cos'era il cuore il cacciavite cioè come se la politica fosse non c'era nel cacciavite nel cuore cioè come dire la politica fosse in politica entrassero emozioni e microtecniche eh no voi capite dire teologia politica diritto vuol dire sostanzialmente poi chiudo perché vi ho già seccato abbastanza eh vuol dire se vuoi il diritto cioè se vuoi un ordine razionale devi fare devi cercare molto più in là devi cercare molto più in là molto più in basso molto più in alto devi cercare nelle decisioni nelle grandi decisioni che ti fanno capire che stai rischiando qualcosa devi cercare nelle profondità della storia devi cercare nel presente le grandi speranze le grandi speranze non utopistiche per carità non utopistiche devi tenere insieme la struttura e la sovrastruttura non si fa politica dicendo beh questo non c'entra no c'entra ecco è una critica dire teologia politica e diritto vuol dire per ottenere il diritto devi esercitare la critica ma la critica di che cosa? la critica del grande presupposto moderno che ecco che la critica è stata fatta una volta sola una volta per tutte quando abbiamo tagliato la testa al re a Dio no lì è stato come ha detto Hegel che Dio lo benedica sempre quella fu dunque una splendida aurora certamente si deve cominciare così ma poi va portato con noi il ricordo di quello che abbiamo fatto mentre tutta la modernità è o un oblio l'epoca delle neutralizzazioni delle specificizzazioni cioè ma sì ci affidiamo al progresso oppure è una reazione sanguinosa un'ultima osservazione qui non si parla giustamente di teologie politiche sostanziali cioè non si parla né dei contro-rivoluzionari cattolici che pure sono simpatici ma certamente parlo di Mestre, Bonal, Della Menè, Donoso Cortes che sono simpatici ma pongono il problema se vogliamo ma insomma lo pongono in modi estremamente brutali cioè avete fatto la rivoluzione non perché l'avete voluta voi ma perché l'ha voluta Satana e adesso naturalmente Dio si vendicherà ecco sì l'idea che la modernità è una ha una dimensione teologico-politica lì c'è la dimensione teologico-politica tutta giocata su sostanza buona rivoluzione cattiva e si va poco in là insomma e non c'è e non c'è la teologia politica ecco contro la quale siamo andati a sbattere in questi anni cioè l'imperialismo eurasiatico di Putin che oggi è una vera teologia politica alla quale noi contrapponiamo abbastanza goffamente qualche cosa che potrebbe sembrare teologia politica ma non è semplicemente un'ideologia un'ideologia occidentale media diciamo mentre invece lì c'è una teologia sostantiva sostantiva però come dire abbastanza impressionante cioè c'è una beh c'è un'idea di missione in tutto quello mi sentite perché no perché invece è saltato questo coso qui probabilmente no non è saltato c'è un'idea di missione in tutto quello che ho detto io avevo detto finora teologia politica è critica e invece può anche essere adoperata come super critica e allora sono i contro rivoluzionari cattolici che è una critica che diventa dogmatica o può essere adoperata come un'idea di missione cosa che vabbè Dio è con noi cosa che uno dice ma al giorno d'oggi non si fa più è mica vero mica vero una parte una parte delle motivazioni della Russia oggi sono motivazioni esplicitamente teologico-politiche in cui converge una vecchia teoria la teoria della terza Roma che Roma è una cosa seria nonostante Roma è una cosa seria cioè Roma vuol dire l'unico dominio legittimo universale la Roma del Lazio la Roma del Bosforo e la Roma della Moscovia perché perché quando quando le insegne imperiali dell'Occidente passano a Bisanzio quelle insegne a quel punto sono solo lì poi quando Bisanzio viene presa dai turchi da lì passano a Mosca e questo non è poco naturalmente è una teologia politica imperiale diversa dalla teologia politica medievale perché si fonda sopra la sovrapposizione del potere politico e di quello religioso che è una cosa che noi non conosciamo ma loro la conoscono bene vuol dire che l'imperatore è Isapostolo cioè è un apostolo e dunque è un santo ma oltre a questo lì dico in Putin c'è il pensiero eurasiatico cioè l'idea che la Russia è una missione ha una missione che è di essere la terza Roma di essere panslavista ma questa è roba vecchia cioè il panslavismo è una teoria ottocentesca essere a capo di tutti gli slavi che vuol dire sostanzialmente arrivare fino a Trieste che produce ha sempre prodotto qualche scompiglio nei Balcani ma poi ce n'è una terza dimissione quella di tenere insieme un pezzo d'Europa l'Europa orientale e l'Asia in una prospettiva anti-occidentale perché l'Europa e l'Asia perché nell'origine della Russia c'è sia l'elemento religioso che vuol dire ortodosso sia l'elemento panslavistico sia l'elemento mongolo cioè il canato che invece che essere respinto è accolto come terza motivazione terza radice dell'essenza russa che vuol dire con tutto quello che comporta nella testa poi di Alexander Dugin che non è nemmeno il principale eurasiatista perché gli eurasiatisti cominciano negli anni venti del ventesimo secolo che vuol dire comunità versus individualismo e vuol dire compattezza versus corruzione e integrità versus dissolvimento la russia deve essere a questa missione imperiale di riprendersi tutto quello che è suo e potendo anche di riconvertire l'occidente guardate dietro a questa storia ci sta anche uno come Dostoievski cioè che scriveva cose abbastanza impressionanti se uno si legge il diario di uno scrittore c'è una potenza anche ideativa oltre che espressiva l'occidente è un formicaio per cui questa è una bella teologia politica che noi non capiamo come tale pensiamo che sia un'allucinazione certo è una teologia politica sostantiva fondata su una sostanza ecco questa invece grazie a Dio è una teologia politica critica certo non serve a fare la guerra questa ma tanto a fare la guerra ci pensa il liberalismo con i suoi valori ecco con questa con questa non si fa niente però si capisce che è esattamente quello a cui serve la filosofia cioè non è che fai qualche cosa però riesci a padroneggiare riesci a capire che cosa ti sta succedendo intorno che è un gran bel risultato per cui sono molto contento di avere avuto anche la seconda occasione e vi ringrazio per l'attenzione l'attenzione